Importante appuntamento previsto per sabato all'interno del ventesimo premio internazionale della fotografia cinematografica. Sì, c'è un aspetto importante che sono le emozioni fotografiche, curata da Frederic Vienne, che è il nostro fotografo che fa parte di Teramo Nostra. E quindi questo premio quest'anno l'abbiamo intitolato a Lucio De Marcellis, perché Lucio è stato uno dei collaboratori anche dell'associazione, ma è stato un docente del nostro liceo artistico, è stato uno dei promotori delle piste ciclabili, si è battuto sempre per fare le piste ciclabili, è una grande figura di intellettuale che ha onorato la nostra provincia. Il prossimo appuntamento è giovedì alla Pinacoteca Civica in Viale Bovia alle 17.30, ci sarà la consegna dei cataloghi della mostra di Giovanni Melarangelo, dei disegni, un bellissimo catalogo con interventi musicali di un violongello e di un violino, intervento critico di Nerio Rosa e quindi andiamo avanti con le varie iniziative, chiuderemo l'8 novembre con il concerto alla nostra casa di riposo. Importanti numeri quest'anno ha registrato il premio? Sì, il premio è stato veramente superseguito, purtroppo dobbiamo dire che è la nota negativa, che non abbiamo ancora oggi nessun, l'unico finanziamento è stato di 1000 euro della nostra provincia. Noi vorremmo che questo premio, che è andato anche in onda sul Tg nazionale, sul Tg2, vediamo che la parte politica, anche a livello locale, danno finanziamenti o si fanno parte attiva di far avere i finanziamenti per tante altre manifestazioni e su questa manifestazione non c'è la giusta attenzione.